Musica Vertice sulla sicurezza a Castello Imperiali dopo i recenti episodi di violenza culminati con l'omicidio del 19enne Paolo Stasi. Un'indagine complessa spiega il procuratore capo Antonio De Donno. Città blindata dalle forze dell'ordine per i prossimi due mesi. Su scuole, università e città decidiamo noi, studenti in corteo in tutta Italia, per chiedere maggiori diritti e tutele. Anche a Bari e a Lecce gli studenti scendono in piazza per chiedere risposte concrete al governo. Riqualificazione del Palazzo Troilo a Taranto. Ecco le immagini in anteprima del cantiere dell'antico palazzo che si appresta a diventare un hub culturale ma anche ristorante e bar panoramico. Ben ritrovati, benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione in diretta di Antenna Sud. In apertura del nostro telegiornale interregionale di Puglia e Basilicata, un'ampia pagina dedicata alla cronaca. Partiamo da Francavilla-Fontana per un vertice sulla sicurezza Castello Imperiali dopo i recenti episodi di violenza culminati con l'omicidio del 19enne Paolo Stasi. Un'indagine complessa, spiega il procuratore capo De Donno, città blindata per i prossimi due mesi dalle forze dell'ordine e il servizio. È un'indagine complessa però, questa è la sensazione, che non sia semplice. È un'indagine complessa, abbiamo bisogno di lavorare con estrema tranquillità. In una città blindata per i prossimi due mesi, con presidi di tutte le forze dell'ordine, la conferma arriva dal procuratore capo Antonio De Donno. Si tratta di un'indagine complessa, evidentemente tutt'altro che lineare e proprio per questo il riservo sui progressi investigativi sull'omicidio di Paolo Stasi è massimo. A poche ore dall'autopsia fissata per sabato mattina, il mistero sulla morte del 19enne, ucciso in via Occhi Bianchi la scorsa settimana, resta irrisolto. Eppure se la stampa abbrancola nel buio, la sensazione che procura i carabinieri siano sulla pista giusta. E questo è il primo aspetto emerso a margine del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto in trasferta dal prefetto di Brindisi Carolina Bellantoni. Io tengo a precisare che questo episodio gravissimo che ha colpito la collettività di Francavilla non ha nulla a che fare con la situazione di sicurezza generale del territorio. Il vertice però è stato incentrato sui maggiori controlli che nei prossimi mesi, abbracciando quindi il periodo natalizio, interesseranno la città degli imperiali con in strada i reparti speciali di carabinieri, guardia di finanza e polizia di Stato. Vogliamo tranquillizzare la popolazione e dire che le forze dello Stato insieme al Comune sono presenti e continueranno a lavorare in questo territorio in forma assolutamente intensiva per almeno un paio di mesi. E questo dovrebbe, speriamo, riportare piena tranquillità. Ci spostiamo a Foggia per il tragico epilogo di una scomparsa. È stato trovato senza vita Giovanni Antonucci il 79enne, scomparso il 15 novembre scorso dopo essere uscito da casa in bicicletta. L'uomo è stato trovato questa mattina senza vita in periferia in zona Vigna Nocelli. Il suo cellulare aveva dato l'ultimo segnale proprio in quella zona. Sulla vicenda continuano ad indagare i carabinieri. Fondamentale si è rivelato il fiuto dei cani molecolari per il ritrovamento. Adesso andiamo a Taranto per un blitz antidroga. Un vero e proprio market della droga nel rione Itamburi a Taranto con orari di apertura e chiusura e che avrebbe risentito delle limitazioni legate alla pandemia da Covid-19. Sei persone sono state arrestate, tre in carcere ed altrettante ristrette ai domiciliari, dagli agenti della squadra mobile della Polizia di Stato di Taranto ed altri due risultano indagate. L'accusa è di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I soggetti avevano messo in piedi una fiorente attività di spaccio che riguardava sia lo spaccio al minuto che operavano all'interno di un vero e proprio market dello stupefacente, sia attraverso le forniture nei confronti di ulteriori soggetti dediti a loro volta all'attività di spaccio. Quindi si trattava di soggetti che gestivano una piazza di spaccio nella zona Tamburi e dei soggetti che procacciavano e rappresentavano fonti di approvvigionamento per altri spacciatori. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati avrebbero venduto più di 13 kg di droga, in particolare hashish, per un ricavo superiore a 122.000 euro tra il 2020 e il 2021. Dalle indagini è emerso che ad occuparsi dell'approvvigionamento della droga e predisposizione delle dosi sarebbero stati un 38enne ed un 36enne. Gli altri indagati avrebbero avuto il compito di venditori della droga, mentre il figlio dell'unica donna indagata, compagna del 38enne, avrebbe avuto il ruolo di custode della sostanza stupefacente. Fondamentali ai fini investigativi, le intercettazioni telefoniche ed ambientali. Le perquisizioni che sono state effettuate nella giornata di oggi hanno consentito di accertare che all'interno di quel locale che veniva utilizzato come supermarket della sostanza stupefacente ci fossero delle tracce riconducibili ad almeno 30 panette di hashish, quindi documenta sia l'attualità dell'attività di spaccio che la quantità importante di sostanza smerciata. L'ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti dei sei indagati è stata emessa dal GIP del Tribunale di Taranto. Nuovo sbarco di migranti in Salento, sono 102 le persone giunte a bordo di una natante a vela sull'imbarcazione, anche un cadavere. C'era anche un uomo senza vita, 302 migranti giunti a bordo di una natante a vela, intercettato nella notte durante la navigazione dalla Guardia di Finanza che l'ha poi condotto a Santa Maria di Leuca. Un nuovo sbarco all'alba in Salento, questa volta però con un tragico risvolto. A perdere la vita pare se un iracheno di 46 anni deceduto durante il viaggio. Secondo il medico legale, la morte risalirebbe ad almeno tre giorni fa e presumibilmente per cause naturali. Sembrerebbe che l'uomo fosse diabetico e il decesso si pensa sia avvenuto a causa di una crisi ipoglicemica. Il magistrato ha disposto il trasferimento della Salma nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Immigranti giunti sono prevalentemente uomini, 25 le donne e diversi minori non accompagnati, provenienti soprattutto da Iraq, Iran, Afghanistan ed Egitto, sul posto ad accoglierli i volontari della Croce Rossa italiana. Una persona è stata portata all'ospedale di Tre Case in codice giallo a causa delle condizioni di salute precarie. Gli altri invece condotti nei diversi centri d'accoglienza del Salento. Una donna fasanese è indagata dalla Procura di Taranto per aver attestato falsamente di essere un'insegnante di lettere. Ha dichiarato di essere laureata in Bulgaria e che quel titolo di studi l'è stato riconosciuto come valido dal Tar per insegnare in Italia. In realtà non era vero e così una fasanese di 41 anni rischia di finire a processo dopo la denuncia presentata nei suoi confronti dall'ufficio scolastico di Taranto e l'indagine avviata dalla Procura del capoluogo ionico. La donna ha presentato richiesta di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie nella provincia di Taranto per le supplenze in materie letterarie nelle scuole superiori e per italiano storie e geografia in quelle medie. Nel modulo ha allegato il suo certificato di laurea che ha conseguito in Bulgaria e ha attestato di aver ottenuto un riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento in Italia con una sentenza del Tar. In realtà il Tribunale amministrativo aveva giudicato il suo ricorso irricevibile. L'aspirante insegnante così avrebbe dichiarato il falso. L'ufficio scolastico di Taranto, avendo appurato l'irregolarità, ha inviato comunicazione alla Procura della Repubblica che ha aperto un'indagine conclusa qualche settimana fa. L'insegnante 41enne, appartenente a una nota famiglia fasanese, rischia il rinvio giudizio per falsa attestazione a un pubblico ufficiale di qualità personali proprie. Si tratta di una tipologia di reato per cui è prevista la reclusione da 1 a 6 anni. Sono numerosi gli italiani che si spostano in Bulgaria per conseguire la laurea, ma con un titolo di studio conseguito in quel paese. Non si ottiene in Italia il riconoscimento automatico del livello di istruzione o della qualifica professionale. E adesso la pagina politica. Promettono di essere in campo per il congresso PD nazionale e locale e chiedono un partito non più piegato sulle posizioni di Michele Miliano e primarie aperte per il cambio di leadership. I consiglieri regionali Fabiano Amato e Ruggero Mennea presentano il manifesto, compresa la rimozione di Rocco Palese da assessore alla salute. Noi combatteremo colpo su colpo perché vogliamo capire se stiamo noi in un partito che ha le idee che dovrebbe avere, idee di avanti, di progresso, oppure se abbiamo sbagliato e stiamo in un partito diciamo sbagliato. Saranno in campo, a tutto campo, tanto per il congresso nazionale quanto per quello dei tempugliesi. Fabiano Amati e Ruggero Mennea colpo su colpo annunciano in conferenza stampa La mozione non ha ancora un riferimento nella capitale ma un manifesto sì basta con il partito dei ne, ne e soprattutto basta con un partito assoggettato al governatore Michele Miliano e primarie apertissime per il cambio di leadership con tanto gli effetti sull'amministrazione regionale spiegano vuol dire rimozione dell'assessore alla salute Rocco Palese niente gioco dalle deleghe ai singoli consiglieri e amministratori unici al posto di quelli che definiscono incariche di consolazione. Quindi quando osserviamo in particolare nella sanità che ci sono cose che non vanno tra l'altro ogni volta che l'assessore Palese parla io non lo capisco mai, devo dire la verità ma sarà un mio limite è chiaro che se non combatti per evitare il tumore al seno e il tumore al colon che stai a fare? Beh, devi essere rimosso. Questo è un momento decisivo dove se le regole non saranno chiare in maniera definitiva è chiaro che lo scontro porterà a delle conseguenze anche estreme non vogliamo essere soggiogati ancora una volta né dai vertici nazionali né da quelli regionali e poiché noi riteniamo, siamo fondatori di questo partito e riteniamo di poter esprimere delle posizioni anche diverse da quelle della maggioranza noi vogliamo farlo nel rispetto delle regole quindi chi violerà lo statuto e i regolamenti interni del partito subirà sicuramente l'impugnazione degli atti. E adesso uno sguardo alla politica nazionale quando le richieste sono legittime verranno accolte quando sono strumentali no lo afferma il ministro Calderoli sul tema delle autonomie oggi l'incontro con la premier Giorgia Meloni La bozza Calderoli violando la Costituzione dice che se una regione e il governo fanno un'intesa su un assetto diverso delle competenze e dei finanziamenti il Parlamento non può mettere becco deve passare come mera approvazione può solo dire sì o no come se fosse un trattato internazionale Un provvedimento ancora in fase di stesura che genera il caos e spacca in due il Paese il presidente della Puglia Michele Emiliano insieme al governatore della campagna De Luca parla del rischio di una babele di regole sui temi che riguardano salute, lavoro, ambiente e istruzione la bozza di riforma sull'autonomia delle regioni presentata in conferenza dal ministro Calderoli spinge su un percorso di decentramento di diverse competenze ad oggi attribuite alla potestà concorrente tra Stato e territorio e qualunque tipo di rischio verrà superato nessuno parla caduta per tutti e nessuno intende sfavorire qualcuno vogliamo far crescere anche il LEP quindi sono timori mal riposti quelli delle regioni del sud rispetto a una riforma quando ci sarà un testo che avrà il recepimento di tutte le loro richieste quando non siano strumentali io credo che questi timori svaniranno il punto di rottura era quello sui LEP che oggi il ministro assicura e il governo definirà sono convinto che dopo 21, quasi 22 anni in cui c'è la previsione che lo Stato definisca i livelli essenziali delle prestazioni finalmente questo governo e questa legislatura porteranno alla definizione di tutti i LEP l'ex assessore regionale Alfonso Pisicchio e l'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti rilanciano sulla terza via e guardano alle evoluzioni di PD e Terzopolo ma anche alle prossime regionali noi diciamo ragioniamo sulla terza via la terza via è quella di mettere in rete i cittadini di mettere in rete le esperienze sane del civismo e crediamo di ragionare in questo senso noi oggi lanciamo quest'idea da Bari l'ex assessore regionale Alfonso Pisicchio riparte da senso civico l'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti dalla lista civica nazionale insieme allo stesso tavolo per rilanciare il cantiere di quella che definiscono la terza via fuori dai partiti e senza citare il governatore Michele Emiliano e la sua federazione di civiche credo che questo percorso debba essere chiaro cioè noi siamo per i cittadini e non per schieramenti o tifoserie il sud del Mediterraneo al centro della tavola rotonda nel capoluogo c'è Pier Camillo Falasca della lista l'Italia C'è in collegamento Ismaele Lavardera deputato regionale della Sicilia e presidente della civica sud chiama nord una prima pietra insomma anche in vista delle evoluzioni del terzo polo nazionale e del regionale futuro in via gentile nella Puglia Michele Emiliano oggi siamo a questa iniziativa senso civico penso che sia un ottimo nome per partire in realtà nella Puglia poi che verrà perché è ovvio che in Puglia si parla già molto di elezioni regionali anche se sono avanti se ne parla molto quindi anche in questo scenario che dipenderà dai passi che abbiamo detto prima sia del Partito Democratico che di quello che sarà il terzo polo insomma c'è tanto da lavorare penso che sia prematuro ragionare e adesso andiamo a Lecce dove il ministro Anna Maria Bernini ha partecipato alla sedicesima edizione del premio nazionale delle arti voi sapete che gli AFAM che sarebbero appunto gli enti di alta formazione artistica, musicale e coreutica che oggi celebriamo quindi accademie e conservatori sono in assoluto la finestra sul mondo più panoramica che l'Italia abbia sono i più internazionalizzati ci sono studenti stranieri che vengono a studiare in Italia ci guardano dall'estero quindi io ho intenzione ed è un impegno che ho già assunto con loro di valorizzare molto questi istituti l'Accademia di Belle Arti di Lecce designata dal Ministero dell'Università e della Ricerca ha presentato la sedicesima edizione del premio nazionale delle arti per promuovere la storia della cultura artistica del nostro paese presenti le massime cariche politiche distruzionali Presidente, sedicesima edizione di un appuntamento ormai diventato punto di riferimento a livello nazionale per consacrare anche l'arte e la cultura in tutte le sue forme Le accademie hanno l'ambizione di essere il punto di riferimento artistico e culturale del nostro paese Create in Italy è lo slogan che abbiamo lanciato perché l'arte si crea in Italia e si crea soprattutto nelle accademie dove i ragazzi imparano questa creatività e questa bellezza che poi riusciamo a portare nel mondo è un grande onore per noi ospitare questa edizione del premio delle arti ma soprattutto è un grande onore avere la prima visita del Ministro Bernini nel mezzogiorno nella nostra accademia credo che sia una formula che farà capire quanto le accademie hanno bisogno di supporto e di sostegno perché rappresentano uno degli aspetti più importanti del nostro paese Ne auguriamo la sedicesima edizione del premio nazionale delle arti promosso dal Ministero dell'Università della Ricerca ed è dedicato agli studenti delle accademie dell'alta formazione artistica che hanno scelto l'alta formazione artistica come percorso di studio universitario quindi per il loro futuro per la loro professione per la loro carriera Appuntamento nazionale alla sedicesima edizione Sì, è un festival molto importante che coinvolge tanti luoghi della città una bella collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti Adesso apriamo una pagina dedicata al mondo della scuola e della formazione iniziamo con le proteste a Bari e a Lecce degli studenti universitari che hanno partecipato alla mobilitazione nazionale Ora decidiamo noi Anche Lecce aderito alla giornata di mobilitazione nazionale Ora decidiamo noi lanciata dall'Unione degli studenti Diversi universitari hanno organizzato un presidio allo Studium 2000 per chiedere risposte al nuovo governo e alla regione in merito a più criticità riscontrate nelle scuole e nell'università partendo da un'edilizia più sicura e non classi pollaio come quelli attuali hanno evidenziato poi più percorsi di formazione e lavoro una mobilità sostenibile e gratuita e più corse serali degli autobus e interventi in tema di benessere psicologico In particolare oggi ci concentriamo su chiaramente l'accessibilità agli spazi universitari e diciamo su un piano generale rispetto al sistema di tassazione all'interno dell'università che purtroppo crea delle grandi difficoltà agli studenti e alle studentesse del nostro Ateneo Molti studenti per esempio hanno la possibilità di magari quando hanno lezioni il pomeriggio di magari prendersela con calma vado a venire magari la mattina alle 6 per una lezione magari alle 4 e quindi questo anche quando lo studio magari è il tempo perso quindi sì mancano corse serali e ne abbiamo bisogno Aiutare gli studenti nelle fasce più deboli perché molto spesso ci sono dei prototipi da rispettare Oggi a Lecce c'è il ministro Bernini potendola incontrare che cosa le diresti? Chiederemo maggiori finanziamenti per quello che è il sistema innanzitutto universitario e della formazione in genere Un maggior supporto per tutti gli studenti universitari per venire incontro a tutte le nostre necessità Ascoltare gli studenti perché appunto ci sono problematiche e molti studenti hanno il diritto allo studio e abbiamo bisogno appunto di essere ascoltati Una richiesta di maggiori tutele per la popolazione studentesca specialmente universitaria per provare ad abbattere o ridurre il caro affitti e le spese per garantire e sostenere il diritto allo studio nonché un miglioramento dei trasporti Questi alcuni dei temi e degli slogan lanciati dai tanti studenti che oggi hanno girato in corteo per le strade di Bari rispondendo ad una più ampia mobilitazione nazionale Chiediamo che la nostra città implementi in prima battuta il sistema dei trasporti perché ad oggi in una città con 50.000 studenti e studentesse dell'università ancora non abbiamo trasporti notturni molto spesso i poli universitari sono mal collegati tra di loro molto spesso si ha difficoltà per quanto concerne i trasporti extraurbani a garantire un servizio di qualità che permetta agli studenti e alle studentesse di arrivare puntuali e in sicurezza all'interno del proprio dipartimento nei propri corsi di laurea chiediamo che si risolva e si facciano degli avanzamenti sulla questione degli affitti sull'abitare all'interno del nostro territorio purtroppo troppi studenti e troppe studentesse non stanno trovando casa e se non è la casa che diventa troppo costosa molto spesso troppo costosa è l'abbonamento per i mezzi purtroppo ad oggi l'università sta andando verso un crollo delle immatricolazioni un aumento degli abbandoni perché la città e il tessuto sociale che li ospita non sono molto spesso pronti adeguati ad accoglierli noi chiediamo affinché i nostri atenei facciano degli avanzamenti e il diritto allo studio all'interno del territorio sia effettivamente garantito a tutti e a tutti che la nostra città prenda un indirizzo favorevole verso gli studenti e le studentesse del nostro territorio e continuiamo a raccontare il mondo scolastico ci spostiamo a Foggia dove Assessorato Regionale all'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale Puglia celebrano l'inaugurazione regionale dell'anno scolastico 2022-2023 Quest'inaugurazione importante per dare fiducia al territorio per stimolare il territorio abbiamo scelto Foggia perché insomma è un momento anche particolare ma noi pensiamo che Foggia e la provincia siano davvero un grandissimo territorio stupendo straordinario E' la provincia di Foggia quest'anno ad ospitare la cerimonia di inaugurazione regionale dell'anno scolastico 2022-2023 L'iniziativa a carattere itinerante che celebra il sistema scolastico della Puglia e le sue eccellenze è giunta già alla sua quarta edizione e nasce da un'idea della Regione Puglia Assessorato all'Istruzione Formazione e Lavoro che d'intesa con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ne sostiene l'attuazione Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte oltre all'assessore regionale all'istruzione Sebastiano Leo e al direttore di USR Puglia Giuseppe Silipo le autorità di ambito locale e provinciale oltre ad una vasta rappresentanza delle scuole dell'intera Regione Tema di questa edizione è la sostenibilità ambientale e la gestione delle risorse e dei territori Vogliamo dare forza ai ragazzi che sono non solo il nostro presente ma anche il nostro futuro quindi questa inaugurazione è anche diciamo un plauso a tutta la scuola pugliese che in questi anni davvero ha dato tanto e ha dimostrato nel periodo della pandemia di essere davvero un'eccellenza Oggi è una festa delle scuole non è una festa nostra quindi saranno proprio gli alunni i ragazzi di tutte le scuole della Regione protagonisti sia negli stand esterni sia nella parte diciamo più delle performance all'interno quindi sono loro che ci portano come hanno interpretato il tema della madre terra lo mostrano a noi noi siamo spettatori attenti di quello che loro fanno e intanto le terme di Margherita di Savoia hanno aperto le porte agli studenti dell'Istituto Alberghiero in occasione del PMI Day una giornata di orientamento per illustrare le possibilità di fare impresa dalla teoria alla pratica il passo è stato brevissimo per gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Margherita di Savoia la lezione questa volta è stata seguita all'interno delle terme l'azienda è stata scelta da Confindustria Bari e Bat per il PMI Day la visita guidata nei reparti dello stabilimento termale è la parte pratica di questa giornata di orientamento prima con la vice presidente nazionale della piccola industria Confindustria Teresa Caradonna l'amministratore unico di terme Marina Lalli e la presidente del consiglio regionale pugliese Loredana Capone per gli studenti è stato il momento dell'ascolto per capire che il futuro professionale può essere realizzato anche nella libera impresa l'impresa sia fondamentale per un territorio quanto indotto crei quanti posti di lavoro e soprattutto far capire quanto è bella la libera iniziativa e che senza impresa non c'è futuro nel futuro professionale di ciascuno di noi ci sono tante opzioni anche quelle dell'imprenditoria l'imprenditoria può svilupparsi se c'è un intorno ad essa tutta una idea ma anche una collaborazione e dopo che tutto ciò parte c'è una ricaduta forte importante sul territorio con il numero di persone che possono essere impiegate in un'azienda possono lavorare l'indotto questo è tutta una esperienza per i ragazzi e per capire quanto è importante l'attività che si può svolgere ecco questi incontri servono anche a questo a capire che non c'è solo il muro di recinto della propria scuola o della propria casa o delle case o dei luoghi di incontro ma c'è un mondo nel quale dopo entreranno e dunque che è meglio conoscere cambiamo argomento e parliamo di infrastrutture il presidente della provincia di Lecce Stefano Minerva accoglie la carica dei 21 sindaci che sono stanchi di aspettare e chiedono risposte in merito alla realizzazione della statale 275 e l'affidamento dei lavori avverrà non oltre il primo semestre 2023 e qui oggi dopo quanti anni 25 anni e ancora parliamo di 275 io spero che sia un incontro risolutivo presidente per dare una risposta una risposta oramai definitiva perché se una classe dirigente non riesce a decidersi in 25 anni se la deve fare come la deve fare come non la deve fare vuol dire che non stiamo assolvendo bene ai nostri compiti dal punto di vista tecnico dal punto di vista del governo e dal punto di vista delle amministrazioni comunali il presidente Stefano Minerva accoglie la carica dei 21 sindaci che sono stanchi da aspettare ma chiedono risposte in merito alla realizzazione della 275 abbiamo dato un'ulteriore accelerata al percorso abbiamo chiamato i sindaci alla presenza dei sindaci concordato l'incontro con il commissario per la 275 che è venuto a spiegarci a che punto della situazione siamo a che punto sono i tempi per l'inizio dei lavori sul primo lotto e la progettazione sul secondo ovviamente come sempre abbiamo fatto coinvolgendo i sindaci interessati il commissario straordinario Marzi ha illustrato lo stato di attuazione del procedimento in corso del primo lotto compreso tra lo svincolo di Maglie Nord chilometro zero e lo svincolo nei pressi della zona altigierale di Tricase chilometro 23,3 per un importo complessivo di oltre 244 milioni di euro Marzi ha ribadito inoltre durante l'incontro il massimo impegno nel perseguimento degli obiettivi prefissati dopo la chiusura con parere favorevole della conferenza di servizi indetta sul progetto definitivo del primo lotto sarà pubblicato il bando di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori comunque entro il primo semestre del 2023 una vera chiamata alle armi non è una chiamata alle armi ma comunque è un dire per forza muoviamoci e restiamo in tema di edilizia i fondi PNRR per il recupero della cittadella della ricerca Brindisi non dovrebbero più arrivare per ora abbandono e degrado regnano in quello che sarebbe dovuto essere un centro di ricerca di eccellenza internazionale ma pare che il recupero sia possibile sentiamo fondi PNRR che non arriveranno più per il rilancio della cittadella della ricerca che vedete alle mie spalle tanto degrado in quello che doveva essere invece un centro internazionale di ricerca sono trascorsi decenni e tante promesse da parte della politica locale e regionale ma bisogna far ripartire questo centro vediamo perché tanto denaro pubblico investito negli anni per trasformare quello che era nato come un ospedale psichiatrico in una vera e propria città dove si studia il futuro delle nostre produzioni vedere adesso questa cittadella così ridotta come vediamo dalle immagini è come se un sogno di rilancio fosse definitivamente svanito l'abbandono e il degrado si tagliano a fette tra erbacce strade sconnesse mancanza di un reale servizio di guardiania chiusura delle foresterie interna e strutture fortemente degradate questo è ciò che resta della foresteria del centro ristorazione della cittadella della ricerca il comprensorio come è noto è di proprietà della provincia di Brindisi anche se di recente la regione Puglia nel marzo scorso in particolare ha deliberato di dare avvio ad un percorso di valorizzazione funzionale della cittadella una sorta di presa in carico insomma con l'obiettivo di dare vita ad un polo di interesse regionale nel campo della ricerca e dell'innovazione in grado di favorire la transizione della Puglia verso un'economia green ma come fare per non attendere tanto ce lo spiega Nicola Narcisi del centro studio BAB rigenerando l'attività che è stata svolta in questo centro d'eccellenza alle mie spalle e che potrebbe rappresentare davvero di nuovo un trampolino di lancio per fare in modo che l'intera l'intera area di terra d'Otranto e quindi Brindisi, Lecce e Taranto possa vivere un momento di sviluppo e di progetti realmente sostenibili Ci fermiamo qualche istante restate con noi Riprendiamo con l'informazione in diretta di Antenna Sud andiamo a Taranto per mostrarvi in anteprima il cantiere dell'antico palazzo Troilo vi mostriamo come si sta lavorando e rendering di cosa diventerà un hub culturale ma anche ristorante e bar panoramico Questo è il locale che sarà destinato alla ristorazione si estende per buona parte del piano terra e come vediamo è una struttura molto antica già in qualche maniera era stata riqualificata e consolidata negli anni e adesso si porterà a termine con tutta la parte della parte impiantistica e di rifiniture Questo è un altro spaccato che è il bookshop Siamo a circa 5 metri sotto il livello stradale come si può vedere si intravede il banco di roccia calcarea proprio della città vecchia naturale Questo è il vicoletto che poi dà accesso sempre su Via Duomo che una volta ultimato verrà riaperto al pubblico transito Conserva miracolosamente ancora i suoi colori questa splendida cappella uno tra i tesori che custodisce Palazzo Troilo costruito tra il 18esimo e il 19esimo secolo nel cuore dell'isola antica di Taranto ci troviamo in Piazza Duomo questo è il secondo palazzo storico per il quale sta per partire ufficialmente un cantiere di riqualificazione dopo Palazzo Nove Lune noi siamo già in grado in esclusiva per voi di entrare all'interno per mostrarvi tutti i suoi segreti che cosa diventerà? Questo palazzo è interessato da un finanziamento di circa 5 milioni di euro che ha come obiettivo quello di riportare alla luce le sue parti storiche più importanti come la cappella o gli affreschi che ci sono ma anche le parti sottostanti e il terrazzino che è bellissimo agli affacci a mare quindi sarà un ulteriore spazio di consegnato alla frubilità pubblica della città l'architetto Cucinella insieme a un pool di ingegneri e tecnici locali ha lavorato per rimettere in luce verrà realizzato un bookshop una zona co-working una zona di sviluppo culturale il terrazzino consentirà lo sviluppo anche di eventi privati feste è un immobile abbastanza grande quindi noi proveremo a metterlo tutto a sistema Ci spostiamo a Brindisi che punta con forza sulla riqualificazione della sua costa per rilanciarsi sul piano turistico dopo anni di degrado finalmente un'azione concreta di rilancio da ieri avviato un nuovo cantiere Innanzitutto è un'operazione di contrasto anche all'abusivismo perché purtroppo abbiamo tantissimi manufatti abusivi anche lungo la costa che è ovviamente di pregio è uno degli elementi su cui puntare Quello della riqualificazione del litorale di Brindisi è un vecchio e storico problema quasi un tormentone che negli anni non ha mai trovato risposte né soluzioni sul piano politico una costa che almeno fino a pochi anni fa era stata ridotta a discarica occupata solo da qualche vecchio Lido spesso risultato anche abusivo Questa è l'area interessata dai lavori di riqualificazione l'area dell'ex Lido Arena oltre 3500 metri quadri che saranno restituiti alla città dopo anni di degrado di abbandono vedete sono in corso i lavori di demolizione dei vecchi manufatti che dovrebbero completarsi entro pochi giorni e poi si inizierà con la costruzione e la realizzazione di un nuovo Lido pubblico siamo in uno dei tratti più belli della costa Brindisina per anni non fruibile ai suoi cittadini può diventare quindi una spiaggia pubblica fruibile senza i pericoli ovviamente di queste opere ormai deteriorate anche di tipo abusivo e che quindi è un tratto di costo ulteriore che intendiamo recuperare poi ci sarà anche il tema del recupero di ulteriori fondi proprio per far diventare queste spiagge pubbliche poi delle spiagge anche attrezzate una costa che almeno fino a pochi anni fa era stata ridotta a discarica occupata solo da qualche vecchio Lido spesso risultato anche abusivo adesso tuttavia la situazione sembra stia cambiando e grazie all'intervento di qualche privato che ha realizzato strutture degne di nota e decisi passi avanti dell'amministrazione comunale la Litoranea sta assumendo un aspetto decisamente diverso un ulteriore passo avanti in una città che può e deve tornare a vivere puntando sul suo splendido mare torniamo a Bari procedono speditamente alla quartiere Poggio Franco i lavori per la realizzazione del villaggio 30 ore per la vita a Gebeo l'opera solidale che accoglierà le famiglie dei bambini malati di leucemia e adesso c'è anche una data per l'inaugurazione il 14 marzo 2023 adesso una data c'è quella del 14 marzo 2023 giorno del compleanno di Vincenzo il piccolo morto di leucemia tra le braccia del Papa Michele in quella data una promessa diventerà realtà ma ci sarà ancora tanto bisogno del supporto della comunità barese per terminare gli allestimenti proseguono speditamente i lavori per la realizzazione del villaggio 30 ore per la vita a Gebeo uno spazio di 3000 metri quadri che accoglierà le famiglie dei bambini malati di leucemia l'opera solidale che sorge in un'area confiscata alla malavita è stata donata dal comune di Bari all'Onlus amici di Vincenzo per realizzare il progetto che prevede 10 unità di cui 8 abitative una destinata a reception ufficio e guardiania e una destinata ad attività di riabilitazione dopo tantissimi anni non è la stanchezza sono le lacrime che continuano a uscire sempre in maniera molto emozionale perché dopo tanto vedere una promessa arrivata al termine perché quando mi morivo Vincenzo in braccio gliel'ho promisi è una cosa qui dentro meravigliosa chiaramente grazie all'aiuto di tutti il cantiere procede veramente in maniera spedita abbiamo necessità di dover comprendere i tempi di consegna di due forniture specifiche che in questo periodo storico nel materiale dell'edilizia risultano essere alquanto indeterminate sono gli infissi e i pannelli fotovoltaici questo perché parliamo di un edificio che risponde agli standard più moderni di efficientamento energetico presentata presso la camera di commercio di Taranto la nuova guida servizi commercio estero e di internazionalizzazione in primo piano guida ai servizi di commercio estero e internazionalizzazione è il nuovo strumento che la camera di commercio di Taranto mette a disposizione delle imprese e che è stata presentata nel corso di una conferenza stampa una nuova utile guida per gli imprenditori soprattutto per quanti operano nel commercio estero questo tipo di strumenti divulgativi viene molto apprezzato dalle imprese che a volte sono in difficoltà proprio sull'informazione di base siccome il settore internazionalizzazione è un settore molto importante per il nostro territorio abbiamo ritenuto approfittando di una misura di intervento nell'ambito di un PON di poter finanziare anche questa piccola guida in maniera tale da divulgare tutte le tipologie di servizi la nuova guida è disponibile presso la camera di commercio di Taranto contiene tutti i servizi offerti ed è disponibile anche in versione online questa guida ha lo scopo di informare e consentire ancora di più alle imprese tarantine della provincia di Taranto di poter usufruire di tutti quegli strumenti che gli consentono di poter lavorare attraverso l'esportazione all'estero dei prodotti del nostro territorio a Brindisi un premio per le storie di alternanza scuola lavoro storie di alternanza promosse da Union Camere e dalle Camere di Commercio Italiale un premio giunto alla quinta edizione con l'obiettivo di valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza ad aggiudicarsi il premio per il territorio brindisino il liceo Epifani Ferdinando l'istituto Gaetano Salvemini e l'istituto Logistica Puglia Mobile Sostenibile il premio consiste in un'erogazione economica per l'acquisto di strumenti e attrezzature da utilizzare per la progettazione e la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e la formazione guardando ai giovani e al futuro perché da una parte non è solo come detto prima il futuro delle imprese del nostro territorio i nostri i nostri lavoratori di domani ma sono dei ragazzi che in qualche modo hanno da esprimere tanti valori tante idee e hanno un entusiasmo che in qualche modo contamina un po' tutti partendo dalla gamma di commercio e poi a cascata il dato che emerge è che in molti casi hanno una grandissima fantasia spesso gli ambiti più toccati sono quelli del sociale il tecnologico e poi soprattutto tutto ciò che ha a che fare con l'arte con l'immaginazione la fotografia c'è tanta elaborazione di immagine che in questo momento sta divenendo sempre più un elemento chiave di quella che è la comunicazione moderna alcuni sulla robotica che hanno incrociato i temi della robotica con le ricadute sociali quindi la robotica sociale e poi tanta informatica insomma in un convegno a Bari si è parlato di investimenti nell'era post-pandemica con un occhio ai mercati emergenti i postumi della pandemia le tensioni geopolitiche la crescita dei costi energetici dell'inflazione dei tassi di interesse del rischio percepito di una nuova recessione le PMI sono strette tra la tentazione di chiudersi passando la mano e investire per uscire rafforzate dalla crisi nel caos di una tempesta perfetta è il tema del convegno organizzato da AMO Investments Sime S.P.A un momento di confronto tra esperti del settore per capire cosa attendersi e come muoversi in questo periodo storico per gestire i rischi e cogliere le opportunità secondo gli esperti pare che gli investitori e i risparmiatori siano impauriti e stressati dall'iperbole della volatilità negativa dopo anni di sostanziale stabilità se parliamo se parliamo nell'ambito delle PMI direi che questo è appunto un momento per crescere per linee esterne magari acquisendo aziende che hanno una buona clientela ma non hanno le risorse per portare avanti dei progetti nel campo invece degli investimenti di portafoglio direi che è un momento in cui si tende a tornare verso la normalità i tassi di interesse tornano a essere più remunerativi e alcuni segmenti internazionali sia del settore dell'equity che del settore del debito sono tornati attraenti bene dico alcuni l'Asia mediamente più attraente dell'Occidente A Potenza è sold out per il primo appuntamento della stagione della sartoria teatrale Nino Frassi che ha fatto registrare il tutto esaurito nel Cineteatro Don Bosco vediamo bene bene sold out è una cosa buona? allora si buono buono questi sono 100 euro 70 euro sono di elemosina il resto magia un inizio con lo botto tra musica e risate è quello della nuova stagione di sartoria teatrale che andrà avanti tra la soddisfazione di ospiti pubblico e organizzatori sì no mi fa piacere mi fa piacere anche perché è da tanto che non vengo quindi mi fa piacere tornare e poi aprire la stagione che vedo interessante perché anche gli spettacoli successivi sono interessanti di questa stagione iniziamo la stagione teatrale di sartoria teatrale come l'abbiamo finita con un soldato quindi è una cosa che ci dà tanto orgoglio già l'anno scorso quando abbiamo lanciato la prima edizione anche in maniera un po' folle in pieno periodo covid e già la risposta era stata positiva ovviamente quest'anno abbiamo raddoppiato il numero degli abbonati e appunto le sensazioni sono ancora migliori quindi ci lascio tutto ben sperare e questo era il nostro ultimo servizio grazie come sempre per l'attenzione la linea adesso passa ai colleghi della redazione sportiva arrivederci rimani connesso scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud trovi tutte le news i programmi in streaming e on demand e le pagine social grazie a tutti grazie a tutti